Siamo con Alessandro Cagliani, direttore generale dell'Istituto Clinico Universitario Policlinico di Monza. Un nome lungo, ma credo di avercela fatta. Si è conclusa una giornata importantissima per il Novara Calcio. Novara Calcio che è legato a doppio filo con la struttura in cui ci troviamo. Una giornata importante. Comincia oggi la stagione 2013-2014. I ragazzi del Novara sono venuti qua oggi da noi, hanno effettuato tutte le certificazioni agonistiche per poter iniziare la stagione. Noi anche per prassi aziendali, per il bene che noi trattiamo, che è quello più prezioso per l'essere umano, che è la salute, ci teniamo molto a questo profilo di salutistico e di sanità dei nostri giocatori. Abbiamo fatto tutte le verifiche del caso, i nostri medici dello sport erano qui a fare tutti gli esami approfonditi per gli atleti professionisti e così siamo pronti per partire con il Novara Calcio. Guardandoci intorno, sembra di essere, almeno per quanto riguarda il piano sportivo, in una Novarello in miniatura, possiamo dire. E' ovvio che quando si varca l'aspetto sanitario, qui c'è tutto. Cosa c'è nel dettaglio, se ce lo può dire lei? Grazie. No, qui, assolutamente, qui c'è la diacenza col centro sportivo di karate di Verano Brianza. Qui dentro ci sono tutti i servizi specialistici, diagnostici e di cura, tipici di un ospedale. Abbiamo la diagnostica per immagini, abbiamo tutto quello che afferisce la medicina dello sport dal punto di vista specialistico, abbiamo tutti gli ambulatori medici che si possono avere in un ospedale. Abbiamo poi dei servizi di eccellenza, soprattutto per quanto riguarda la medicina dello sport, quali tutta la parte di fisioterapia, soprattutto tutta la parte di analisi del movimento sportivo, tutta la parte posturale per lo studio dei bite per gli atleti, con i dentisti che collaborano con noi, con tutte le analisi odonto-stomatologiche. E abbiamo anche dei servizi nuovi che sono proprio partiti quest'anno, come la crioterapia. Perfetto, è proprio qui che volevamo arrivare nel dettaglio di cosa si tratta, è uno dei fiori all'occhiello di questo istituto. La crioterapia è un servizio che abbiamo proprio inaugurato quest'anno, ed è un trattamento particolare che espone il fisico dell'atleta e dello sportivo a temperature molto particolari, si arriva fino a meno 180 gradi, e quindi questa breve esposizione del corpo a queste temperature crea delle virtù dal punto di vista cardiovascolare, per delle contrazioni, delle sollecitazioni, chiedo scusa, dall'apparato cardiovascolare, che ne fanno un apparato importante per la cura di determinate patologie sportive, soprattutto quali tendino muscolari, quali contratture e quant'altro, ma anche contusioni. Parliamo anche di campo, perché Alessandro Cagliani molto spesso l'abbiamo visto in tribuna a Novarello, a Novara, insomma, ti chiedo un parere su questo Novara che sta nascendo. Insomma, abbiamo visto un bel po' di facce e nomi nuovi. Guarda, io ti ringrazio per la domanda, soprattutto perché pensi che io capisca di calcio, ma noi abbiamo sempre avuto come filosofia il fatto che la società di calcio è una società, e chi è nella società, io ho anche la fortuna di essere nel Consiglio di Amministrazione, lascia ai tecnici di giudicare tecnicamente le squadre. Io quindi sono uno dei primi tifosi del Novara Calcio, tecnicamente so che abbiamo il direttore sportivo, gli allenatori, che sono molto più bravi di mai giudicare i giocatori. Io non è noto di fede perché so che gli acquisti che abbiamo fatto sono importanti, che andremo a fare e lo saranno ancora di più, però io mi fermo qua.